Ben ritrovati in diretta Spazio Salute e parliamo di tecnologia a supporto di paziente e chirurgo. Vi presento i miei ospiti, in studio con me c'è il dottor Marco Massani, direttore di prima chirurgia all'ospedale Caffoncello, ben trovato dottore. Do il benvenuto al dottor Lorenzo Buttazzi, direttore dell'urologia all'ospedale di Conegliano, ben trovato dottore. E al dottor Mario Salvatore Mangano, direttore dell'urologia all'ospedale Caffoncello di Treviso, ben trovato anche a lei. Parto proprio da lei, dottor Mangano, la chirurgia robotica si è ampiamente consolidata in ambito urologico. Che cos'è? Cerchiamo di chiarire un po' la questione anche ai nostri telespettatori da casa, che a volte può essere, si siano trovati insomma in relazione con questa tipologia di tecnologia. Beh, sicuramente il robot ha rappresentato un cambiamento di quello che è l'approccio chirurgico urologico al paziente, specialmente per quanto riguarda la patologia renale e la patologia prostatica. E rappresenta l'ultima frontiera della chirurgia e quindi un ottimo alleato del chirurgo, principalmente dell'urologo, nonché anche delle patologie a carattere della chirurgia generale. Questo perché è possibile grazie a quello che rappresenta il sistema, cioè un sistema di una visione 3D, quindi tridimensionale, dove praticamente ripercorre e facilita una visione profonda di quello che è realmente il campo operatorio, attraverso anche della strumentazione che viene applicata a delle braccia del robot, che è una delle componenti, e che attraverso dei movimenti, micromovimenti, ci assicura una delicatezza proprio sul campo operatorio. Il robot quindi ci ha rappresentato quello che è un'evoluzione e quindi una facilitazione alle precedenti tecnologie chirurgiche. Di cosa è composto il robot? Diciamo due sinteticamente, è formato da due unità, una prima unità che è la console dove si siede il chirurgo, ed è la console dove è permesso al chirurgo una visione 3D tridimensionale e dalla quale il chirurgo comanda tutto ciò che è il movimento del robot. In una seconda unità che è il carrello del paziente, che è rappresentato dalle braccia del robot, alle quali braccia vengono applicati degli strumenti che possono essere tipo pinze, forbici, dissettori, tutto ciò che serve poi per procedere nell'intervento vero e proprio. Queste due unità sono tra loro connesse e comunicano attraverso un sofisticatissimo software che praticamente poi trasmette ogni tipo di movimento che il chirurgo attraverso due manipoli esercita a livello della console verso le braccia determinando appunto quello che è il movimento sofisticatissimo di queste attrezzature, di questi attrezzi chirurgici che abbiamo detto come prima, come forbici, pinze, dissettori e quant'altro. Ecco, una strumentazione importantissima, possiamo davvero dire che l'utilizzo del robot ormai è una pietra miliare nel campo della chirurgia, non soltanto nell'ambito urologico. Da quanto l'urologia del caffoncello è fornita di questa particolare attrezzatura e la condivide tra l'altro con la prima chirurgia diretta dal dottor Massani? Allora noi siamo venuti in acquisizione di questo sistema nel 2015 da allora abbiamo eseguito circa 800 interventi con una certa soddisfazione una soddisfazione che diventa prima del paziente e poi del chirurgo noi con questo tipo di chirurgia siamo riusciti a elevare il livello qualitativo di quelle che sono le maggiori patologie in campo urologico riguardante sia la patologia tumorale del rene e sia di quello della prostata nonché delle ricostruzioni funzionali di apparati come in caso della malattia degiunto a livello renale quindi mediante l'esecuzione di pielureteroplastiche di tumerectomie renali con una dissezione sul letto dell'organo in maniera molto precisa e con una percentuale di sanguinamento mediamente bassa Ecco, dottor Massani quali sono i vantaggi per il paziente che viene sottoposto ad un intervento con l'utilizzo di questa tecnologia e quali sono anche i vantaggi per voi chirurghi che appunto state dall'altra parte? Allora, per il paziente diciamo che i vantaggi fondamentalmente sono rappresentati da un recupero più veloce che è determinato da un insieme di fattori l'ha già detto dottor Mangano prima per esempio l'applicazione della chirurgia robotica ha ridotto il sanguinamento e questo in genere si comporta anche un miglioramento nel post-operatorio del paziente quindi fondamentalmente per il paziente il recupero il tempo di recupero è sicuramente più breve rispetto alla chirurgia tradizionale se non altro perché l'aspetto del dolore è molto ridotto chiaramente perché le incisioni che vengono utilizzate per applicare gli strumenti sono molto piccole e quindi c'è proprio anche un fatto diciamo abbastanza facile da comprendere che un taglio grande inevitabilmente dà dei problemi maggiori soprattutto nelle prime giornate che spesso sono quelle più importanti per riprendere un'attività adeguata e più veloce per quanto riguarda il chirurgo diciamo che il grande vantaggio allora diciamo che richiede moltissima attenzione nel senso che il fatto di essere seduti sarebbe da vedere un po' com'è perché hai la testa all'interno di questo sistema che ti consente questa visione 3D e poi le mani che governano queste due attraverso le quali poi si fanno tutte le manovre che vuoi fare quindi richiede moltissima attenzione la posizione è forse un po' più ergonomica quindi però alla lunga stanca anche quella a dire il vero insomma poi la concentrazione le due cose messe insieme però sicuramente quello che è il dato migliore è la precisione la precisione è incredibile quanto riesce a essere precisa la chirurgia robotica questo macchinario? ma io credo che per quanto riguarda la chirurgia generale il massimo del vantaggio lo si ha quando si fanno quelle che tecnicamente si chiamano anastomosi cioè praticamente si ricollegano due organi due per esempio nel caso dell'intestina ma non solo nel caso di alcuni interventi sul pancreas lì ti consente di fare movimenti estremamente precisi estremamente delicati anche se uno dei limiti del robot è che non si ha la percezione della forza che si trasmette quello è un po' ancora un punto che probabilmente verrà in futuro perché non si utilizzano fisicamente le proprie mani ma un'estensione a differenza della laparoscopia che comunque è una chirurgia meno invasiva in cui è il chirurgo ad avere in mano lo strumento e quindi è in grado di percepire esattamente quanta forza esercita nel caso del robot tutto questo viene mediato da queste famose braccia che sono in genere 4 che hanno un peso considerevole per cui bisogna acquisire una discreta esperienza prima di capire qual è l'esatta attrazione che si riesce a fare sulle strutture che stai maneggiando Che cosa si fa, dottor Massani, in prima chirurgia e in che ambiti si utilizza la chirurgia robotica oggi? Allora, il nostro è un reparto di chirurgia generale quindi facciamo tutta la chirurgia dal torace all'addominale oltre alla chirurgia d'urgenza quando ci tocca e la chirurgia che facciamo con i robot prevalentemente è la chirurgia del retto quindi diciamo dell'ultima parte dell'intestino e lì il robot credo che sia un vantaggio innegabile assolutamente ma poi l'abbiamo applicata per moltissimi altri tipi di chirurgia la chirurgia del pancreas, la chirurgia del fegato abbiamo fatto della chirurgia dello stomaco quindi insomma nell'ambito della chirurgia generale si può utilizzare un po' per tutto io credo che il vero vantaggio lo si abbia quando si deve fare anche una parte ricostruttiva cioè non solo quando c'è una componente demolitiva anche se il termine non è bello però la parte ricostruttiva è un grandissimo vantaggio Ecco, una stima un po' degli interventi un numero, se così potremmo dire degli interventi che vengono fatti con questa tecnologia noi adesso ne facciamo due alla settimana con il robot proprio con la chirurgia robotica perché abbiamo una giornata dedicata insomma e quindi in genere perché la sala la condividiamo appunto con i colleghi dell'urologia e quindi il mercoledì di solito è il giorno nostro e quindi dalle 8 alle 8 facciamo in genere due interventi insomma Dottor Mangano, una stima invece voi in urologia con la condivisione dell'attrezzatura Mediamente con l'aumento delle sedute operatorie concesse adesso noi riusciamo a fare 5 interventi alla settimana approfittando del fatto dell'aumento appunto della seduta del martedì che facciamo l'8-20 facendo l'8-20 quindi si riesce a fare due interventi di solito due interventi di prostatectomia radicale mentre poi lunedì, martedì, giovedì e venerdì facciamo una seduta robotica quindi riusciamo a volte a farne anche 6 mediamente perché rispetto magari alla chirurgia generale noi abbiamo maggiori c'è un'indicazione sia verso il rene sia verso la prostata sia quello che dicevo prima delle ricostruzioni funzionali di un organo tipo la pierrure teleplastica che è una patologia dove c'è una zona di stenosi nel passaggio fra il rene la pelvi del rene e l'uretere La durata media di questi interventi con l'utilizzo della robotica? Uno dei grossi vantaggi del robot rispetto a quello che è il training di apprendimento della metodica rispetto ad esempio alla laparoscopia è proprio questo abbattere i tempi di apprendimento si stima che mediamente dopo 15-20 interventi di robotica l'apprendimento della tecnica è nelle mani del chirurgo rispetto alla laparoscopia io vengo da un'esperienza prima open cioè cielo aperto poi laparoscopica e adesso da 8 anni robotica dove appunto per diventare un bravo video laparoscopista le procedure dovevano essere 50-60 o più con il robot decisamente questo viene abbattuto appunto per la dutilità che ha lo strumentario e per rispondere alla sua domanda sicuramente per fare una prostatectomia radicale fra la preparazione perché non è solo il tempo chirurgico da conteggiare effettivo ma è tutta la preparazione dello strumentario che prevede praticamente viene vestito da guaine sterili che vanno applicate sul paziente per cui lei faccia conto un intervento di prostatectomia radicale siamo nell'ordine delle 4 ore cosa diversa invece un intervento sia di asportazione completa del rene sia di conservazione quindi di un'asportazione di un tumore del rene siamo nell'ordine delle 2 ore ecco abbiamo capito che insomma con questa chirurgia robotica si possono fare tantissime cose nell'ambito della prima chirurgia ma insomma anche dell'urologia in quali patologie secondo lei questa tecnologia all'avanguardia è estremamente performante estremamente vantaggiosa per voi che operate ma anche per i pazienti beh sicuramente al chirurgo ha cambiato la vita nella prostatectomia radicale sinceramente avendo come le dicevo prima l'esperienza di chirurgia a cielo aperto noi diciamo quindi col bisturi e di quella laparoscopica cioè la posizione ergonomica come diceva il dottor Massani prima di essere seduto lavorare in maniera pressoché esangue quindi alla fine dell'intervento chirurgico avere una quantità di sangue minima come perdita per il paziente rispetto alla chirurgia col bisturi questo ha sicuramente rivoluzionato tutto quanto quello che è l'indicazione per il chirurgo pensare di ritornare a operare col bisturi sulla prostata le posso garantire è un qualcosa che mette come si faceva prima senza questo questa attrezzatura questo bel sistema certo abbiamo detto appunto che ormai insomma è una pietra miliare siamo davvero nell'era della robotica potremmo davvero davvero dire così ci spiega prima di passare poi col dottor Buttazzi a parlare di un altro tipo di tecnologia che viene usata nell'urologia dai laser questa procedura in che cosa consiste la prostatectomia ha detto nel in che tipo di sì che tipo di procedura che cosa viene a che cosa serve sì con il robot beh la prostatectomia è un intervento di asportazione completa della prostata nel caso in cui ci troviamo con una patologia tumorale bisogna considerare la diversità fra molte volte c'era confusione sono stata operata alla prostata questo è il paziente che parla e mi hanno tolto la prostata poi si va a chiedere qual era la patologia alla fine si scopre che la patologia è una patologia di tipo benigno in realtà non ha fatto una prostatectomia radicale ha fatto solo l'asportazione del cosiddetto adenoma della prostata cioè se facciamo un paragone della prostata a un'arancia noi vediamo che l'arancia è formata dalla buccia e dalla polpa la prostata è formata dalla capsula e dalla adenoma dalla polpa nel caso in cui ci troviamo di fronte a una patologia tumorale l'arancia viene tolta viene tolta tutta quindi la prostata con la sua capsula e denoma viene tolta tutto nel caso in cui invece ci troviamo di fronte a una patologia benigna quindi la cosiddetta iperplosia prostatica benigna si fa praticamente una fissurazione per dare l'idea all'interno della capsula della buccia dell'arancia e lei consideri che si spolpa l'arancia in modo tale da creare una specie di galleria così viene fatto a livello della iandola prostatica viene fissurata la capsula non è proprio la capsula ma per dare l'idea viene fatta una specie di galleria mantenendo quello che è la parte esterna della prostata che è appunto la capsula prostatica la buccia dell'arancia che è quello che è quello che poi determina l'eventuale complicanza di quello che è una delle complicanze legate alla prostatectomia radicale che è l'impotenza erettile ecco insomma bene utilizzare anche i termini molto semplici che dobbiamo far capire ai nostri tre spettatori da casa di che cosa stiamo parlando dottor Buttazzi abbiamo parlato di chirurgia robotica ma c'è anche un altro binomio molto importante ed è quello urologia laser che si è possiamo dire davvero affermato nel tempo che cosa è il laser? bella domanda dovendo utilizzare una terminologia molto semplice e comprensibile non è facile da spiegare questo concetto comunque immaginiamo che il laser è un sistema fisico ottico molto sofisticato all'interno del quale c'è quello che viene detto un materiale attivo questo materiale attivo stimolato da un'energia una corrente elettrica emette delle radiazioni radiazioni elettromagnetiche sotto forma di luce quindi il raggio laser è fondamentalmente luce questa luce ha delle caratteristiche molto peculiari nel senso che è unidirezionale non diverge ma va esattamente in un'unica direzione e è direzionabile nel senso che io conduco questa luce laser esattamente nel bersaglio che io voglio che io voglio che io voglio colpire e questo è il vantaggio sostanzialmente del laser di trasferire dell'energia nel punto esatto in cui la voglio applicare i laser possono essere classificati in base al tipo di materiale attivo di sostanza che c'è all'interno di questo mezzo mezzo ottico e si parla di laser a solido a gas a liquidi a semiconduttori e fondamentalmente i laser che vengono utilizzati in urologia sono stati tanti nel passato quelli a rubino ad argon a neodimio ma adesso quelli che vengono utilizzati comunemente nella pratica di tutti i giorni sono il laser ad olmio il laser al tullio e il laser quello il green light laser che è quello che emette la luce verde quindi tante diverse tipologie di laser tante diverse tipologie e giustamente lei dice e quando è che si usa uno e quando è che si usa l'altro effettivamente il laser ha delle caratteristiche intrinseche in particolare la lunghezza d'onda e sostanzialmente si utilizza il laser adatto in base al bersaglio che si vuole che si vuole colpire quali sono i mezzi i bersagli che si vogliono colpire in urologia sono sostanzialmente l'acqua perché viene utilizzato all'interno dell'apparato urinario oppure nei tessuti e quindi utilizzo come bersaglio l'emoglobina che è contenuta nel sangue dei tessuti tanto più uno tessuto è vascolarizzato all'emoglobina tanto più il laser agisce bene in quel tessuto tanto più un tessuto è bagnato dall'acqua e ovviamente l'apparato urinario lo è tanto meglio il laser funziona all'interno di questo mezzo proprio perché esatto per far sì che il laser agisca su un tessuto c'è bisogno che ci sia nel tessuto stesso un recettore che recepisce il laser quindi un bersaglio specifico appunto per il laser e le caratteristiche del laser possono essere cioè l'effetto che il laser ha sul tessuto è in base alla lunghezza d'onda del laser in base alla potenza con cui viene erogato alla diciamo forma della punta del laser in modo che dia un raggio più divergente o più focalizzato ma sostanzialmente gli effetti che il laser determina nei tessuti sono degli effetti diciamo chimici degli effetti meccanici e degli effetti termici e questi effetti fotochimico fototermico e fotomeccanico sono legati al fatto che il laser trasmette l'energia al tessuto questa energia viene ovviamente tradotta o comunque si trasforma nel tessuto o in delle semplici modificazioni molecolari all'interno delle cellule oppure questa energia sviluppa calore sviluppando calore i tessuti vengono bruciati vaporizzati incisi oppure trasmettendo non solo calore ma anche energia meccanica questi tessuti vengono frantumati e in effetti le proprietà diciamo che si sfruttano del laser sui tessuti sono quello della coagulazione quello dell'incisione quello della frammentazione a seconda che venga utilizzato per frammentare i calcoli si utilizza un potere del laser se si utilizza invece gli altri due poteri è per coagulare o diciamo dissolvere dei tessuti ecco quali sono i vantaggi di questa strumentazione per l'utilizzo di questa strumentazione del laser nei pazienti allora sostanzialmente ricapitolando sono riordinando i concetti è sostanzialmente una fonte di energia molto potente che è direzionabile esattamente nel punto dove la vogliamo applicare quindi anche in questo caso come la chirurgia robotica riesce ad essere estremamente preciso estremamente preciso soprattutto non c'è una divergenza dell'energia nel senso che non viene dissipata i tessuti circostanti che non vengono quindi danneggiati e soprattutto nel punto di applicazione ha una profondità che è predeterminata e quindi io non vado a ledere i tessuti al di là del laser ma esattamente l'energia viene assorbita solo nel punto di applicazione quali patologie si possono andare a trattare con l'utilizzo del laser? allora diciamo che grosso modo i due gruppi di patologie su cui il laser trova applicazione sono la calcolosi urinaria e l'ipertrofia prostatica benigna per quanto riguarda la calcolosi urinaria bisogna fare una premessa e dire innanzitutto che la calcolosi urinaria ha una prevalenza molto elevata nella popolazione si stima nelle varie casistiche tra l'1 e il 20% ma nelle popolazioni che sono molto tra virgolette come si dice non ambienti ma molto sviluppate la prevalenza della calcolosi è intorno è superiore al 10% quindi una persona su 10 ha probabilmente un calcolo urinario è molto diffusa come patologia è molto diffusa e dicevamo la calcolosi per dire come viene trattata deve essere prima classificata e questi calcoli possono essere classificati in base alla loro sede cioè se sono renali nei varicali o nella pelvi ureterali oppure vescicali e in base ovviamente alla sede il tipo di trattamento viene diciamo personalizzato i calcoli possono essere classificati anche in base alle loro caratteristiche radiologiche e questo è molto importante perché le tecniche di imaging mi danno la durezza sostanzialmente del calcolo e quindi posso orientarmi in che tipo di energie e con che modalità aggredire quel calcolo sostanzialmente parliamo di se andiamo a trattare i calcoli in base alla loro classificazione come localizzazione cioè renale ureterale vescicale questi che vado ad esporre sono sostanzialmente i trattamenti nella calcolosi ureterale lo strumento principe è l'uretero renoscopio rigido che è uno strumento di acciaio lungo circa 40 centimetri dello spessore di circa 8 france nella punta questo vuol dire circa 3 millimetri per rendere l'idea della sottilezza di questi strumenti che vengono introdotti attraverso la punta del meato uretrale esterno fino in vescica quindi si risale lungo l'uretere per trattare la calcolosi questi strumenti sono molto delicati sono molto sofisticati anche perché al loro interno hanno due tipi di canali un canale dedicato ovviamente alle fibre ottiche per vedere l'obiettivo e l'altro canale invece quello per l'irrigazione perché si introduce l'acqua per avere una visione migliore e attraverso questo stesso canale si introduce per esempio come si diceva prima la fibra laser per frantumare il calcolo in questione se questi strumenti semirigidi non sono sufficienti o non si adattano perfettamente all'anatomia dell'uretere perché abbiamo detto sono fatti di acciaio l'evoluzione successiva di questi strumenti sono gli uretero-rinoscopi flessibili questi oltre alle caratteristiche molto vantaggiose della prima specie cioè il fatto di essere sottili di avere dei canali operatori dei canali della visione adatti per il trattamento della calcolosi hanno la peculiarità di essere appunto flessibili lungo tutto il corpo e quindi di riuscire a seguire l'anatomia dell'uretere nella loro risalita la ricerca del calcolo da trattare e addirittura quando con questi strumenti si arriva all'interno del rene hanno una punta che è deflessibile di 270 gradi quindi io posso raggiungere facilmente flettendo la punta di questi strumenti tutti i calici renali e indirizzare in questi calici renali o nella pelvia renale la fibra laser che è deputata al trattamento del calcolo stesso e sempre parlando di mini-invasività nel trattamento della calcolosi il passo successivo è quello in caso di calcoli di dimensioni particolarmente ragguardevoli di trattare la calcolosi renale per via percutanea questo vuol dire accedere all'interno del rene direttamente con una telecamera con uno strumento dotato di telecamera e come si fa? prima si punge il rene con un ago si dilata progressivamente questo tramite quindi posso introdurre nel rene uno strumento endoscopico e strumento endoscopico sempre con la visuale sempre col canale operatore attraverso il quale posso introdurre fibre laser piuttosto che altri meccanismi di frantumazione del calcolo e quindi agire direttamente all'inverno del rene e siccome questi strumenti hanno un calibro leggermente superiore a quelli endoscopici che abbiamo citato prima il trattamento della calcolosi renale è più veloce e questo si fa nelle calcolosi più voluminose se vogliamo proprio essere completi a 100% le due tecniche non si escludono una con l'altra ma sono combinabili cioè ci può essere l'accesso per via percutanea e la via retrograda cioè passando dalla vescica dell'uretere i due strumenti con i due operatori lavorano in simbiosi per ottimizzare il trattamento della calcolosi il tutto al fine di ottenere quello che si dice uno stone free rate cioè un tasso di liberazione dal calcolo che nella endurologia è dell'ordine del 90% Dottor Massani abbiamo sentito diverse tecnologie la robotica il laser in che modo l'introduzione di queste tecnologie ha avvantaggiato voi medici ma in che modo ha anche modificato in qualche modo il vostro rapporto con il paziente in che modo poi raccontate al paziente quello che andrà ad affrontare nell'intervento diciamo che sicuramente i pazienti arrivano molto più preparati cioè adesso il fatto di richiedere in qualche modo che l'intervento venga fatto con una tecnica mini-invasiva diciamo che è quasi la regola insomma che poi per mini-invasivo si intenda robotico l'aparoscopico questo è un altro paio di maniche però sicuramente rispetto al passato si sente parlare praticamente ogni giorno di queste metodiche e quindi i pazienti arrivano già preparati e chiedono ma come mi opera con il taglio oppure con i buchetti e questa è la regola praticamente anche perché con queste tecnologie mi scusi se le interrompo soprattutto con la robotica si va sempre di più dal grande taglio alla piccola incisione potremmo dire sì quello che secondo me è importante dire è che il tipo di intervento non cambia la tecnologia il tipo di approccio è diverso ma il tipo di intervento deve essere lo stesso cioè voglio dire il fatto di applicare una metodica meno invasiva non deve far pensare che l'intervento sia diverso da quello che abbiamo imparato negli anni che sono stati insomma il grande vantaggio è proprio quello di riuscire ad applicare le conoscenze che abbiamo acquisito con la chirurgia aperta con metodiche meno invasive che sicuramente rappresentano un grosso vantaggio per il paziente ma anche per il chirurgo chiaramente perché il tasso di complicanze che comunque c'è si è ridotto si è ridotto perché il fatto di riuscire a vedere molto meglio ti consente di essere più preciso nel controllo del sanguinamento nel perfezionare bene vai a riattaccare i due pezzi che devi riattaccare quindi sicuramente il tasso di complicanze si è ridotto non bisogna però pensare che l'approccio mini-invasivo abbia eliminato le complicanze perché? ecco ha un po' anticipato la mia domanda come vengono gestite eventuali complicanze nell'utilizzo appunto della chirurgia robotica in determinati tipi di interventi la complicanza immediata nel senso quella che ti occorre durante l'intervento chirurgico diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a risolvere con la tecnica mini-invasiva la paroscopia piuttosto che robot quella che capita dopo cioè nelle giornate successive l'intervento chirurgico viene trattata nello stesso modo di quelle che capitano diciamo in chirurgia aperta qualche volta è possibile rioperare i pazienti qualora venisse l'indicazione sempre con una tecnica mini-invasiva quando questo non è possibile allora bisogna pensare a un intervento chiamiamolo tradizionale anche se insomma quindi la complicanza dipende un po' quella immediata in genere la riesci a gestire comunque con l'approccio robotico insomma qualche volta purtroppo non è fattibile ma magari per problemi tecnici perché ci sono delle aderenze che ti impediscono di vedere bene insomma ci sono delle condizioni che ti portano alla cosiddetta conversione cioè passare dall'intervento mini-invasivo a quello tradizionale ecco l'utilizzo di queste tecniche innovative ha in qualche modo anche modificato migliorato il decorso della malattia e dei pazienti e anche le prospettive di vita di alcune patologie allora se parliamo di patologie tumorali quello che ha modificato in maniera drammatica la storia naturale di alcune malattie è il fatto che si lavori molto di più in associazione in un team multidisciplinare con il radioterapista con l'oncologo con il gastroenterologo quello ha modificato sicuramente moltissimo l'outcome per quanto riguarda invece se è la tecnica mini-invasiva diciamo che nella maggior parte degli studi quello che ha dimostrato è che sono hanno lo stesso tipo di risultato quindi questo in termini oncologici stiamo parlando è migliore il fatto che recuperino più velocemente cosa di cui abbiamo già fatto accenno ma per quanto riguarda se l'intervento fatto con metodica mini-invasiva è uguale o meno rispetto alla chirurgia tradizionale diciamo che nella maggior parte degli studi quello che si è dimostrato è che sono equivalenti questo è un dato ormai poi ci sono degli studi che sicuramente hanno dimostrato che il fatto che ci sia un minore sanguinamento migliori la prognosi di questi pazienti questo è altrettanto vero però è difficile sostenere che sia solo la tecnica mini-invasiva ad aver migliorato la prognosi di alcune patologie perché nel frattempo ci sono stati anche altri cambiamenti che intercorrono quindi insomma è difficile stabilire allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità torniamo tra pochissimo tra qualche minuto rimanete con noi ben ritrovati in studio spazio dedicato alla salute e in particolare stiamo discutendo di come la tecnologia in campo medico sia davvero a supporto del chirurgo ma soprattutto del paziente con numerosi vantaggi dottor Mangano abbiamo parlato di chirurgia robotica abbiamo parlato di laser che viene utilizzato in tantissime patologie e ci sono però anche altre tecniche che vengono utilizzate come ad esempio il vapore acqueo in che cosa consiste per che cosa viene utilizzato e anche in questo caso quali possono essere i vantaggi riscontrati per i pazienti che vengono operati con questa tecnica ecco il sistema dell'utilizzo del vapore acque è sicuramente un sistema di innovazione per il trattamento particolarmente dell'ipertrofia prostatica benigna è arrivato in Europa da non molto anche se negli Stati Uniti era presente già da 6-7 anni più o meno in Italia l'utilizzo è presente da un paio d'anni noi eseguiamo questa metodica da circa un anno un anno e mezzo è come le dicevo prima una tecnica che utilizza l'immagazzinamento dell'energia naturale in poche gocce di acqua producendo appunto del vapore e questa è una definizione che viene appunto prende il nome di resum dall'inglese resum cioè ristabilire la funzione che adesso le donne nel dettaglio qual è il procedimento il procedimento è introdurre uno strumento attraverso l'uretra che si chiama cistoscopio il quale cistoscopio è collegato a un manipolo attraverso il quale fuoriescono all'estremità del cistoscopio dei microaghi che sono collegati ad una ad un strumentario esterno che insuffla all'interno della ghiandola prostatica appunto del vapore e acqua vapore e acqua che fuoriesce alla temperatura di 100 105 gradi determinando la rottura delle membrane cellulare e quindi una morte delle cellule prostatiche è proprio il vapore acqueo a questa temperatura che permette esattamente e che determina appunto fisicamente una rottura delle membrane cellulare quindi la morte della cellula questo determina quel meccanismo di disostruzione che abbiamo detto prima cioè quella specie di galleria che si viene a creare e cioè che nel tempo di 3-4 settimane abbiamo una degradazione del tessuto cellulare e quindi una degradazione del tessuto prostatico il paziente viene è una procedura altamente innovativa come le dicevo prima perché rispetto alle tradizionali tecnologie che abbiamo allo stato attuale è un intervento che dura 10-15 minuti a una ospedalizzazione pressoché pari a 0 può essere eseguito in dei hospital in regime pressoché ambulatoriale con una semplice sedazione quindi senza anestesia generale quindi anche la preparazione del paziente è più semplice e allo stesso tempo pochissimo invasiva a livello per il paziente stesso il paziente viene gestito poi con una dimissione però del posizionamento di un catetere per un 4-5 giorni che poi viene rimossa appunto dopo 4-5 giorni i risultati cominciano ad essere evidenti a distanza di circa un mese si è visto già dai nostri dati che più del 90% dei pazienti sottoposti a tale metodica ha dei buoni risultati i risultati praticamente sono espressi da un beneficio degli atti minzionali che diventano atti minzionali pressoché regolari e solo il 4% dei pazienti sottoposti a 4 anni in un follow up di 4 anni devono essere risottoposti a un tipo di un intervento un successivo intervento endoscopico per cui la procedura è decisamente innovativa e poco invasiva per il paziente che viene utilizzata all'ospedale caffoncello di Treviso più o meno anche qui una stima noi la utilizziamo da più di un anno e abbiamo fatto circa intorno ai 100 pazienti 100 pazienti che noi in un contesto di rete clinica urologica provinciale dove comprende appunto Treviso Conegliano adesso Montebelluno Oderso abbiamo decentrato un po' questo tipo di attività verso gli ospedali di Oderso dove siamo sempre noi urologi della mia equipa ad eseguire l'intervento sia all'ospedale di Oderso e sia all'ospedale di Montebelluna Dottor Buttazzi l'ipertrofia prostatica insieme alla calcolosi urinaria di cui abbiamo parlato poco fa anche questa è una grande quota dell'attività che si fa in urologia e quindi possiamo dire un po' in qualche modo che le terapie sono sempre più personalizzate insomma il paziente è sempre più al centro di quello che è poi l'intervento e comunque il post-operatorio è esattamente questo tutta la chirurgia si sta muovendo in questa direzione cioè gli interventi devono essere come dei vestiti adatti per ogni singolo paziente ad ogni singola situazione quindi il fatto di avere a disposizione tante armi tante metodiche ci consente di scegliere qual è la metodica giusta adatta per ogni situazione e mi vorrei soffermare sul fatto che è stata citata una metodica la rezzuma il trattamento con l'acqua calda la scoperta dell'acqua calda per il trattamento dell'ipertrofia prostatica e questo va in parallelo ad altre tecniche di trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna rimane fondamentalmente un atto endoscopico cioè un intervento che si fa attraverso l'uretra per giungere la ghiandola prostatica e attraverso questo intervento chirurgico endoscopico noi andiamo a rimuovere la parte eccedente la parte ipertrofica della prostata che va a strozzare il canale urinario una metodica può essere quella appunto del rezzum e poi se vogliamo tornare sulle tecniche sempre mini invasive perché questo era il tema della puntata ritorniamo sul tema del laser ovviamente anche nella prostata ci sono varie tipologie di laser che possono essere utilizzate queste tutte finalizzate a ottenere un effetto disostruttivo quello che mi preme dire è che dei tre laser che vengono utilizzati nel trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna cioè Olno il Green Laser e il Latulio la loro mini invasività è legata al fatto che possono essere eseguiti questi interventi disostruttivi invece che essere eseguiti a cielo aperto nel senso che queste energie laser possono essere utilizzate per vaporizzare il tessuto della prostata possono essere utilizzate per fare delle piccole asportazioni di piccoli pezzettini di tessuto quindi delle laser resezioni oppure il laser può essere utilizzato per rinucleare l'interno della prostata come diceva prima il dottor Mangano togliere la polpa di questa ipotetica arancia che è la prostata tutto per via endoscopica quindi la polpa viene enucleata staccata dalla buccia della prostata viene dislocata all'interno della vescica e all'interno della vescica o frammentata o con degli strumenti che si chiamano morcellatori viene spezzettata ed aspirata il vantaggio del laser rispetto alle tecniche di resezione con la corrente che si usavano fino a poco tempo fa cioè la TURP o rispetto alla chirurgia open che prevede l'asportazione chirurgica della parte centrale della prostata sono sicuramente la diminuzione del sanguinamento diminuzione del sanguinamento che vuol dire diminuzione del tempo di cateterizzazione del paziente vuol dire diminuzione del tempo di permanenza del paziente in ospedale e vuol dire minore utilizzo di trasfusioni di sangue queste tecniche e l'ultima cosa che aggiungo soprattutto il laser diciamo il green laser quello a luce verde la sua specifica peculiarità è quella di avere una sicurezza sull'emostasi forse superiore agli altri tipi di laser e questo consente con questa vaporizzazione si chiama PVP in termini tecnici fotovaporizzazione della prostata con il green light laser permette di vaporizzare di esportare il tessuto ipertrofico della prostata coagulandolo contestualmente è talmente sicuro dal punto di vista dell'emostasi che può essere utilizzato anche i pazienti che utilizzano anticoagulanti e antiaggreganti che è una quota della popolazione anziana che comincia a essere decisamente importante nella nostra casistica e quindi dobbiamo anche in questo caso usare la tecnica laser che ci consente la maggior sicurezza nel trattamento di questi pazienti a parità ovviamente di risultato cioè di ottenere una disostruzione dell'ipertrofia prostatica certo adattare la terapia ad ogni tipo di paziente dottor Massani invece per quanto riguarda il pancreas e le patologie del pancreas quali tipologie di tecniche vengono utilizzate quali tecnologie diciamo che sempre di più si cerca di quando possibile quando vi è l'indicazione perché un problema che non è cambiato è la corretta indicazione a fare una procedura si utilizzano tecniche meno invasive laparoscopiche o robotiche a seconda del diciamo che sono per certi aspetti sovrapponibili soprattutto per quanto riguarda il pancreas è diviso una parte della testa poi c'è una parte del corpo e della coda diciamo che la parte più complessa da ricostruire è la parte quando si deve togliere la parte della testa in questo sicuramente quando è fattibile con il robot il robot per le caratteristiche che dicevamo prima perché stiamo parlando di strutture di pochi millimetri dà un innegabile vantaggio invece per quanto riguarda diciamo l'asportazione della parte del corpo della coda e spesso anche della minza perché è un tutt'uno si può fare tranquillamente anche con un approccio laparoscopico che è comunque sempre meno invasivo che garantisce diciamo lo stesso tipo di esito per il paziente insomma che è quello di un recupero fondamentalmente più veloce Nelle pancreatiti invece che anche queste sono abbastanza frequenti nella popolazione Sì allora le pancreatiti diciamo che in genere diventano di interesse chirurgico per fortuna in una quota minore perché è una malattia estremamente grave con ancora oggi una mortalità molto elevata quando assume delle caratteristiche di severità l'approccio mini invasivo non robotico in questo caso laparoscopico lo si può utilizzare quando si è la necessità di drenare fondamentalmente delle raccolte anche se devo dire che molte di queste procedure sono diventate appannaggio dei colleghi della gastroenterologia perché hanno acquisito dei materiali della guida ecografica attraverso lo stomaco e ci consentono di drenare la gran parte di queste raccolte con la guida dell'ecografo mettendo delle sonde creando una sorta di comunicazione tra la raccolta e lo stomaco e quindi evitando l'intervento chirurgico in una discreta quota di pazienti tecniche innovative abbiamo parlato di progresso progresso però che ci teniamo sempre a dirlo non elimina quelle che sono le capacità dei chirurghi e insomma la sensibilità delle mani che sono il vostro strumento primario sì diciamo che sicuramente ovviamente come in tutti i lavori credo c'è poi la componente umana che è fondamentale per fortuna adesso non sarebbe non sarebbe più il bel lavoro che è sicuramente ecco anche in questo caso chiedo chiedo a entrambi ecco la chirurgia insomma ha avuto notevoli vantaggi dall'utilizzo di tecniche sempre più all'avanguardia che però non sostituiscono le capacità dei chirurghi e anche dei nuovi chirurghi degli specializzanti che arrivano e fanno un percorso di studi e di crescita nei vostri reparti spesso e volentieri beh sicuramente adesso c'è tutta l'attenzione a quello che è l'apprendimento e il planning di quello che sarà un intervento chirurgico per cui c'è una evoluzione futura tecnologica di preparare quando più possibile all'atto chirurgico i vari specializzanti che stanno arrivando e qui viene e subentra la realtà virtuale di cui si parla tanto anche stamattina alla radio si doveva una pubblicità di una ditta che sta preparando programmi per i nuovi specializzanti quindi i futuri urologi chirurgi generali e chirurghi generali e così via c'è la realtà virtuale che non fa altro che trasformare quello che è l'atto reale in tutto un insieme in un complesso digitale attraverso l'utilizzo di visori guanti particolari auricolari particolari e computer interfacciando con tutto un sistema informatico in modo tale da far apprendere quando più possibile quello che sarà poi lo stato reale delle cose tant'è vero che si parla di realtà virtuale immersiva dove il futuro specializzando sarà completamente estraneo a quello che è l'ambiente circostante quindi si immerge completamente in un atto chirurgico ripercorrendo e facendolo direttamente a lui con i vari bip di errore i vari punteggi finali e così via oppure in maniera non immersiva attraverso la visione su un monitor su un monitor di computer roba ancora più interessante per quanto riguarda la specialità dell'urologia è la cosiddetta realtà aumentata realtà aumentata che praticamente ripercorre tutto ciò che è reale appoggiandosi a quelli che sono l'evoluzione dei dispositivi digitali in cosa consiste praticamente il chirurgo si trova a lavorare sempre su un impianto robotico in un monitor dove ha il suo campo operatorio mentre ha un secondo visore dove praticamente con sistemi tridimensionali partendo dall'esecuzione dell'immagine radiologica con mezzo di contrasto quindi un attack si sovrappone un rene grafico con all'interno la patologia ad esempio una neoformazione e lì facendo il calcolo delle due visioni quello reale e quello virtuale praticamente fa vedere tutto ciò che è il suo orientamento nello spaziale della neoformazione quindi tridimensionale i suoi rapporti ad esempio in una patologia in un tumore renale con la via scrittrice noi li chiamiamo i calici che non dovrebbero essere aperti altrimenti si avrebbero delle fistole urinose e cosa molto ancora più importante è la vascularizzazione della neoformazione per cui uno si trova sul monitor di sinistra a resecare la neoformazione sapendo che in quel preciso punto esiste un vaso che è lì pronto a sanguinare motivo per cui le cose stanno veramente evolvendo in maniera scientifica sembra fantascienza però è già la medicina del futuro potremmo dire che è già presente io ho avuto la fortuna come i colleghi di avere un trascorso prima da chirurgia open poi dalla paroscopia e poi da robotica e in effetti sembra quasi intuitivo trasmettere tutte queste esperienze alla realtà odierne ma che in realtà sono il frutto di un background di acquisizioni che noi abbiamo fatto nel corso del tempo il nostro compito è quello di trasmettere le nuove generazioni che non esiste solo la realtà virtuale ma che dietro qualsiasi macchina c'è anche l'uomo c'è l'esperienza personale ci sono le capacità sicuramente soggettive le abilità soggettive e l'umanità per cui ricollegandomi alla sua provocazione iniziale dietro la macchina c'è l'uomo insomma su questo credo siamo tutti concordi siamo in chiusura io ringrazio davvero il dottor Marco Massani direttore dell'unità operativa complessa di prima chirurgia all'ospedale Caffoncello di Treviso grazie dottore grazie al dottor Lorenzo Buttazzi direttore di urologia all'ospedale di Conegliano e al dottor Mario Salvatore Mangano direttore dell'urologia all'ospedale Caffoncello di Treviso grazie per questa chiacchierata insomma abbiamo spiegato anche un po' meglio ai nostri telespettatori a casa quelle che sono le tecnologie che vengono utilizzate in medicina nelle varie specialità grazie a voi di averci seguito da casa io vi do appuntamento alla prossima puntata arrivederci